I cicarelli e le farmacie hanno camminato insieme attraverso i secoli. Pensate che i miei antenati materni erano già speciali nel 1700. La nostra prima farmacia era a Cupra Maritima nel cuore dell'Italia e risale addirittura al 1821. Ma è a mio nonno Clemente, ufficiale del Savoia Cavalleria e farmacista, che si deve alla creazione di famose formule di successo. Tra queste la pasta del capitano, che ancora oggi porta il suo nome e la sua effigie. Oggi farmaceutici dottor Ciccarelli è una realtà industriale orgogliosamente italiana e profondamente radicata nel territorio milanese. È così che dal pestello da speziale si è passati a impianti d'avanguardia, dalla bottega artigiana al laboratorio tecnologico. Oggi è la nostra divisione ricerca e sviluppo a studiare le ricette dei prodotti Ciccarelli, fondendo con sapienza, tradizione e innovazione nel rispetto della massima qualità. Alle ricette originali si sono affiancati negli anni i prodotti di nuova generazione, che ora esportiamo in più di 70 paesi nel mondo, dal Brasile alla Cina, dagli Emirati alla Russia, dall'Australia alla Tunisia, grazie a dei partner selezionati che condividono con noi i nostri stessi valori. A dare un contributo fondamentale all'industrializzazione dei nostri prodotti fu a metà del secolo scorso mio zio Nico, che ebbe delle particolari intuizioni e fra queste la creazione della famosa cera di Cupra. Negli anni del boom economico, gli italiani impararono a conoscere il dottor Ciccarelli, che fu il primo imprenditore in Italia ad essere testimonial dei propri prodotti. Oggi siamo noi a portare nel mondo la testimonianza di questa eccellenza italiana, con l'orgoglio di chi conosce la qualità di questi prodotti unici, creati con attenzione e mentalità farmaceutica. Grazie